In caso di contaminazione organica in un bath di rhodium, è possibile recuperare la soluzione seguendo un processo chiamato di filtrazione di carbonio. Prima di tutto, mettere il rhodium in un bicaro sotto agitazione. Poi aggiungere 1 o 2 grammi di carbonio attivo per litro direttamente nella soluzione. Lascia il composto per reagire per un paio di ore sotto agitazione e possibili impostare la temperatura del bath di 40 a 50 gradi. Due a la porosità di carbonio, molte molecoli organiche rimaneranno in pori e, subseguentemente, separaranno dal rhodium. Get yourself a funnel, filter paper and an empty beaker. Slowly, filter the compound through the funnel. You will see the solution return to its natural color. If not, take a new filter and repeat filtration process. Now, bath efficiency is restored and the solution is ready to be used. All right, let's get started. All right. Grazie a tutti.